Giochino conferenza stampa a posto Biceglie Foggia, un pareggio, che partita è stata quella di oggi? È stata sicuramente una partita difficile per tanti motivi, la pioggia, il campo, quindi non siamo riusciti ad esprimere al massimo il nostro gioco, però comunque alcune cose sono andate bene, però alla fine siamo riusciti ad ottenere solamente un pareggio. Tiziano Enricchiero di Telebru si chiede se a tuo parere il Foggia non è più lo stesso visto nel girone d'andata. No, non è assolutamente così, perché alla fine noi cerchiamo sempre di dare il massimo in campo, chiunque scende in campo cerchiamo sempre di dare il massimo per il Foggia, quindi non è assolutamente così che abbiamo perso smalto, ci può stare un periodo così, però andiamo avanti sempre. L'altra domanda di Tiziano Enricchiero è quando hai saputo di partire titolare oggi? Durante la settimana si provano alcune cose, poi il mister decide quando farci scendere, non sono cose che aspettano a me dire, però quando il mister mi chiama in causa ci facciamo trovare sempre pronti. Alberto Mangano del mattino di Foggia dice che il primo tempo con il Foggia ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alla ripresa dove la partita è sembrata più equilibrata, merito del Biceglie o demerito del Foggia? No, diciamo che ci può stare un calo, però abbiamo sempre dato il massimo anche nel secondo tempo perché volevamo vincere a tutti i costi la partita e comunque si è visto che noi spingevamo tanto, però va bene così, un pareggio ci può stare.